La preparazione del Fuba al concerto del primo marzo La nottella porla te la sta battendo a quella lì E anche io Herzlina Giamma che si è inculato E Giamma si è inculato per la seconda volta ottimo ecco, è il punto ru apriamo il ragazzo è contento non è un problema di quelli che già mamera ti ricordi quanto schifo facevamo lì prima? guarda questo ottimo cosa ne pensa? è vuota era bucata, era bucata non siamo stati noi e ora l'assaggio mi ricorda un po' Cuba anche un po' la tarta del cesso per andare a vomitare bella Ralph bella una appena sboccato auguri Ralph guarda il lupo una appena sboccato ottimo, una appena sboccato il secondo è già Ralph, hai prenotato albì, guarda no, no, no ti sono piegato addosso buonastri cotto e buonastri ragazzi guardami dietro giù grazie grazie a tutti